Bene ragazzi, la nostra torta è pronta, l'ho fatta raffreddare, l'ho divisa a metà, l'ho riempita con il nostro mango, nel frattempo mi sono sfogliato perché ho un caldo, in questa casa tra stufa a pelle, tra il forno, tra io che sono in antropausa, ho caldo. Ragazzi, ve la consiglio, ricetta consigliabile, ricetta personalizzata del Cri, la torta caromango. Ciao a tutti ragazzi, sono il Cri, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Sono stato molto attratto da una cosa particolare, perché sapete benissimo che a me le cose semplici non piacciono le cose banali, non piacciono, lo ripeto quasi in ogni video. Quindi nel video di oggi andremo a provare un prodotto che ho scoperto e che mi ha incuriosito molto sia la texture che il suo ingrediente particolare. Oggi ragazzi andremo a parlare e soprattutto a provare la nuova ActiMask. È una maschera apparentemente normale, ma in realtà ha un principio attivo molto 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 potente. Funzionerà? Non funzionerà? Io l'ho provata per 5 giorni ragazzi e vi devo dire la verità, funziona, lascia la pelle veramente liscia, veramente vellutata. Mettendo un velo di prodotto sul viso e massaggiando dolcemente, ovviamente non sfregando come degli assassini, andiamo subito a vedere che la pelle diventa liscia immediatamente. crea quel velo di morbidezza. È una cosa incredibile. Io ero incredulo su questo. E se ne ho una persona molto curiosa, ho voluto provarla. E posso dire la verità, funziona, lascia una pelle veramente liscia, veramente morbida. E questi sono gli effetti. Ha un profumo che sa un po' di fiori di cimitero, però diciamo dai, sopportiamo l'odore e godiamoci i suoi benefici. Ma la sua particolarità che mi ha proprio attratto è il fatto che contiene veleno di vipera. Il veleno di vipera può avere effetti veramente gravi, ovviamente se morsi. Ha un effetto paralizzante. Certo, non che restate così, però diciamo che paralizzando dovrebbe distendere tutta la vostra pelle. Può causare addirittura convulsioni e alterazioni di coscienza. MOLEDETTO! Ovviamente, ripeto, io non vengo morso, vengo semplicemente accarezzato da questo siro, da questo veleno di vipera. Con la crema al siro di vipera basta un minimo velo sulla pelle, il viso acquisisce subito compattezza e prediene la formazione di rughe d'espressione. In esso, infatti, è contenuta la vitamina A e la vitamina E, che stimolano il metabolismo della difesa e i derivati zuccherini idratano a fondo. Al di là degli effetti benefici della luce da Barbara D'Urso, però posso dirvi ragazzi veramente che funziona. Ho la pelle veramente liscia. Ah, non è tutto ragazzi, perché io ho delle amiche pazze, quindi non perdetevi il video della settimana prossima, perché le mie care amiche furibonde, Martina e Sara, hanno avuto una bellissima idea. Facciamo un video collaborazione con dei prodotti che andremo ad ordinare. Ci sarà da morire dalle risate. Abbiamo deciso di rifarci, quindi non perdetevi il video della settimana prossima, ragazzi. Comunque, maschera approvata. Ve la consiglio, andate ad acquistarla. Act Mask. Ce n'è di molte varianti, c'è il miele, c'è le vitamine, ma io volevo provare il brivido e la sensazione di essere avvelenato da una vispera. Ragazzi, che dire, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per la visualizzazione. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spollicciate sul like. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale. Attivate la famosa campanellina per non perdere alcun video e alcuna nuova news. Come sempre, vi mando un bacione e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.